Il marchio di macchine agricole è pronto a affrontare la sfida dell'agricoltura 4.0, l'agricoltura moderna, di precisione. Siamo pronti all'innovazione, infatti proponiamo macchine per la concimazione, quali Bokwal, un prodotto danese con l'osaggio variabile e apertura e chiusura automatica delle sezioni di distribuzione, Ardi per quanto riguarda la difesa delle colture e poi abbiamo anche Vadestad che è il nostro punto di diamante per la lavorazione del terreno e anche semina, quindi semina di precisione, parliamo della seminatrice Tempo. La seminatrice Tempo è una seminatrice di precisione che abbiamo avuto il privilegio di presentarla sul mercato nazionale nel 2012, quindi abbiamo già sei anni di esperienza, una macchina estremamente precisa, anche alle alte velocità di semina. Con questa seminatrice siamo in grado di seminare colture che possono essere il mais, soia, barbabietola, cotone e via dicendo, quindi con la possibilità di adattarsi con tutte le tipologie di colture che si possono avere nel mercato agricolo. Partiamo da macchine da 4 fino a 24 file che hanno già registrato ben 3 record mondiali di semina in Ungaria, Ucraina e Bulgaria. La particolarità di questa macchina è la capacità di seminare ad alta pressione e di aria e in modo completamente elettrico. La macchina vuol dire che è completamente autonoma per quello che è l'alimentazione sia di microgranulato, seme e anche concime, potendo essere quindi molto versatile anche in quello che sono le chiusure automatiche delle file, sia seme che anche altri due prodotti che possono essere concime e anche microgranulato. Già da due anni abbiamo esperienze con la DECALB, società sementiera, con cui abbiamo consolidato numerose possibilità di seminare anche con rato variabile o con mappe di prescrizione. Quindi estrema versatilità per uno spreco di prodotto davvero minimo. Le mappe di prescrizione mappano quello che è la tessitura del terreno, la tipologia del terreno, ma soprattutto quello che è la capacità di produrre del terreno stesso. Quindi da queste mappe siamo in grado di sfruttare al meglio il terreno, per rendere al massimo la cultura che verrà al successivo. Dopo la semina passiamo a quello che è la difesa culturale. Parliamo in specifico di Ardi, un prodotto che commercializziamo in Italia e vogliamo particolarmente soffermarci su quella che è la novità per l'Eima, quindi novità in anteprima nazionale. Ed è appunto l'Ardi Mega. È un prodotto da 1200 litri fino a 2200 litri, con barre davvero ampie che arrivano fino a 27 metri. Attualmente è il polverizzatore portato più grande a livello europeo, quindi capacità davvero elevate su una macchina anche molto compatta. In questa macchina siamo in grado di gestire un sistema che può essere completamente isobus, quindi sfruttare un terminale del trattore e gestire in automatica quella che è la distribuzione a sezioni di barra, potendo quindi sfruttare appieno quello che è l'agricoltura 4.0, l'agricoltura moderna e di precisione.